Ciao a tutti, in questo video parliamo degli strongiloidi, un parassite intestinale molto particolare perché a differenza della maggior parte dei parassiti intestinali, questo tipo di strongiloidi, di parassita, generalmente non troviamo le uova ma troviamo le larve, quindi a volte possono sfuggire gli strongiloidi quando facciamo un esame delle feci. In questo video cerco di spiegarvi fondamentalmente di solito quali sono le situazioni in cui abbiamo la presenza di questi parassiti e fondamentalmente come si fa la diagnosi e cosa possono provocare. Fondamentalmente gli strongiloidi sono dei parassiti intestinali che colpiscono soprattutto le aree molto sovraffollate, quindi rifugi di cani, di gatti, allevamenti, comunque di solito dove fondamentalmente riuscire a pulire bene la zona del materiale fecale è molto difficile. generalmente possono provocare una diarrea mucoide, acquosa, quindi un'enterite e fondamentalmente quando sono ovviamente in quantità anche molto importante possono creare dei grossi problemi dal punto di vista della crescita dei nostri cuccioli e dei nostri gattini. Fondamentalmente la diagnosi si effettua attraverso l'esame delle feci, ma feci fresche perché fondamentalmente andiamo a vedere le larve e possiamo essere dal punto di vista della diagnosi differenziale possiamo confonderci se le feci non sono fresche con le larve di ancillostomi, quindi fondamentalmente è importante fare l'esame delle feci, di solito si utilizza tipo Berman, dell'esame delle feci fresco, più fresche sono più è facile trovare le larve di strongiloide. Fondamentalmente le larve possono penetrare la mucosa dei nostri animali anche durante la defecazione, quindi ci potrebbe essere una rinfestazione delle stesse feci del nostro animale. La terapia fondamentalmente si utilizza di solito il fenbendazolo per cinque giorni, fondamentalmente per eliminare questi parassiti. Generalmente anche qui, come ho fatto in diversi video che vi appariranno qua in cui parliamo per esempio dei tricuridi, degli ancillostomi e degli ascaridi, bisogna essere interessati a sapere che i parassiti intestinali sono molto difficili da eliminare nell'ambiente, quindi i nostri animali che vanno a fare le passeggiate, che vanno a fare una vita magari esterna come magari i gatti, possono essere anche da adulti infestati da questi parassiti, quindi è molto importante l'esame delle feci. L'esame delle feci è uno degli esami più semplici, ma che a volte ci aiuta anche quando l'animale sembra star bene. Molto spesso troviamo questi gattini che hanno delle feci formatissime, però fai l'esame delle feci e trovi gli ascaridi, trovi uova di ascaridi. Questo è molto importante a sapere, quindi l'esame delle feci va fatto sicuramente nei sintomatici, però anche un controllo ogni tanto non è sbagliato per andare a valutare che non troviamo uova, perché ovviamente se troviamo uova sappiamo che c'è la presenza del parassite e andiamo a trattarlo in modo tale da evitare che questi parassiti, che magari l'adulto riesce a gestire meglio chiaramente del cucciolo, possono poi nel lungo periodo, quando questi parassiti aumentano, creare dei grossi problemi, a volte anche dei problemi che possono anche provocare la morte, perché alcuni parassiti, quando sono veramente tanti, potrebbero provocare la perforazione dell'intestino, quindi la peritonite. Quindi è molto importante, ripeto, eseguire esami delle feci ai nostri animali, in primis perché alcuni parassiti possono essere anche delle zonosi, come per esempio gli ancilostomi, quindi è molto importante, soprattutto negli animali che adesso vivono con noi, che dormono con noi, che insomma hanno una vita fondamentalmente a stretto contatto con l'uomo, sia per loro che per noi, fare dei controlli regolari, soprattutto l'esame delle feci, che è un esame tendenzialmente poco costoso e che dà ovviamente grandi informazioni. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e se siete interessati a fondamentalmente argomenti relativi alla medicina veterinaria, soprattutto le patologie che possono colpire il vostro cane e il vostro gatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere sempre un bel mi piace al video che aiuta ovviamente la crescita di questo canale e ovviamente dei video che andate a vedere. Un saluto a tutti e alla prossima!